a me la juve non mi convince ma è tutto l'anno che non mi convince partiamo dalla fine una quella che in gergo viene chiamata spinazzolata da parte di bonucci che non trova il pallone trova il piede d'immobile e quindi immobile riapre la partita sul calcio di rigore tra l'altro mi sembra che ronaldo gli avesse anche indicato dove batteva il rigore e li ha battuto ma era battuto talmente talmente bene talmente forte che è stato impossibile per il portiere e adesso la lazio sta comunque attaccando mostrando entra tali moro e falbo e la lazio rischia di pareggiare perché comunque la juventus è una squadra così quest'anno se vince lo scudetto come credo succederà lo fa perché c'ha un paio di elementi che timbrano sempre il cartellino parlo di dibala tra i migliori in campo delle giocate pazzesche ha fatto un aggancio con una palla che che scendeva dal cielo e qui ecco scesni che fa il miracolo chi è che ha battuto manco ho capito e quindi la lazio sta schiacciando la juve cioè tu ti rendi conto siamo all'ottantanoesimo uscirà il recupero probabilmente e e la lazio comunque con una marea di defezioni sta comunque in questi ultimi minuti schiacciando la juventus che si era portata in vantaggio con l'imantaggio col vabbè a parte il primo tempo è stata una gara abbastanza equilibrata insomma la lazio non ha rischiato molto c'è stato un palo di alexandro e un palo dell'immobile però tutto sommato è stata partita il piccolo trotto se vogliamo de studio nel secondo tempo invece c'è stato questo episodio del calcio di rigore che abbiamo già parlato ampiamente su ste regola idiota e però chiaramente se se sono sanzionabili quindi e rigore c'era ronaldo si è presentato sul dischetto mazza gliel'ha presa proprio gli ha tolto la ragnatela quasi e e poi c'è stato il raddoppio una una palla di luis felipe persa un cellato da dibala che se la porta avanti e poi in maniera molto altruista perché comunque quando arrivi davanti al portiere te viene se sei un attaccante terrazza come lui è devi provare a segnate ma ha visto ronaldo solo e quindi la ha servito e ha dovuto spingere forse uno dei gol più facili dalla storia della calcistica di ronaldo poi niente appunto c'è stata questa spinazzolata che ha riaperto la partita e adesso c'è la lazio che ecco appena sfiorato il gol sul calcio di punizione al miracolo di scesni e sta andando avanti la lazio sta con dei ragazzini in campo è diventato pure a decani e insomma la juve non mi convince sì rabbio ha fatto una buona gara bentancur però insomma dietro si vedono spesso sbandamenti clamorosi e calo e questo è pure seppure fallo forse no vabbè comunque cinque minuti di recupero ne mancano quattro è appena passato il 91esimo ci aggiorniamo volevo dire una cosa ho fatto caso spesso a ronaldo quando fa le faccette sai quando magari gli fischiano le cose o quando gli danno il pallone lui fa delle faccette a me mi ricorda molto la figlia dei fantozzi non so se ci avete fatto caso andate va a vedere più di lui chiaramente quello da lazio ma ricordo non mi ricordo chi è forse luis felipe non mi ricordo però comunque sia ci si avvicina questa è una nota di colore non c'entra niente però insomma siccome manca ancora due minuti adesso c'è il contropiede da juve non sapeva come impiegare il tempo quindi tutto sta cosa comunque voglio tranquillizzare tipo sia la taccia che seguono calciopasso che anche con questa sconfitta comunque distanza di undici punti nulla è compromesso per lo scudetto e perché insomma undici punti sotto comunque quattro partite so dodici punti per cui matematicamente ancora è possibile però certo undici punti sotto sotto in inglese si dice under mi pare no under scherzo un minuto un minuto di countdown a parte gli scherzi insomma la Lazio ha fatto un campionato veramente strepitoso e la salvezza quest'anno è arrivata con un larghissimo anticipo probabilmente non è detto perché poi so quattro sconfitte cinque gare quattro sconfitte in pareggio ma vale quindi la matematica ancora dice che posso iniziare però dice anche altro la matematica quindi staremo a vedere insomma ancora pochi secondi e l'arbitro sta per fischiare la fine della gara spiace 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 perché comunque il piglio era quello giusto effettivamente però d'artronde si ma fischia che c'ho sonno ci arriva un momento uno deve andare a dormire perché il giorno noi lavoriamo le partite fino a mezzanotte non si può dare che a me ne casca la parpebra ma che cazzo vavro ricorda i glitare questa è una perla che non so se sia un complimento pettare questo ne dicono le cose comunque cioè ieri ho sentito di ecco finita spiace